In un panorama, come quello delle auto in vendita, che inevitabilmente paga, al pari di altri settori, dazio la crisi, le offerte convenienti e di qualità fanno sempre la differenza, come con Dacia. Da sempre, seguendo un costante filo conduttore che ne ha contraddistinto l'operato fin dagli albori, le Dacia hanno rappresentato la punta di un iceberg di convenienza, stile e prestazione. Da sempre, seguendo un costante filo conduttore che ne ha contraddistinto l'operato fin dagli albori, le Dacia hanno rappresentato la punta di un iceberg di convenienza, stile e prestazione. Nel corso del tempo, chi ha puntato sulle Dacia ha sempre riscontato elevati standard a livello di performance, di stile e anche se non soprattutto di convenienza dal punto di vista economico. Anche le recenti proposte hanno confermato questo continuo trend e, ora, come potrebbero confermare specialisti, esperti del settore e anche utenti, arrivano ancora nuove su, le buone nuove non mancano mai, e in ottica Dacia. Del resto, come detto, sono un marchio di fabbrica che ha saputo soddisfare tanti palati tra di loro anche parecchio differenti. Chi deve comprare un veicolo oggi più che mai deve fare attenzione al portafogli, in un gioco di equilibri finanziari e prestazionali che non facciano sprecare soldi, ma ne affidarsi alle offerte Dacia in tal senso ha sempre rappresentato un buon viatico per centrare i due obiettivi. E ora, in ottica 2027, arriveranno delle nuove ulteriori crash affidarsi alle offerte Dacia in tal senso ha sempre rappresentato un buon viatico per centrare i due obiettivi. E ora, in ottica 2027, arriveranno delle nuove ulteriori crash affidarsi alle O. Sarà un momento cruciale. Con Sander Wave sarà in qualche modo ancora più agevole il passaggio all'elettrico e a quella mobilità sostenibile a cui si sta mirando da tempo anche sul piano normativo. Dacia, però, permette ai clienti di fare questo step senza spendere patrimoni, con prezzi competitivi che costringeranno il mercato a seguire anche in alcuni aspetti tecnici? Vedremo. Resta, per esempio, la scelta delle dimensioni delle batterie, che abbassando peso e consumi concederà dunque un calo anche del peso, facendo della Sander Wave una competitor meno costosa.